Allora, se questo è vero, io credo che tutta la famiglia della Viscomi, che il bimbo, il piccolo bimbo che ormai ha due anni, abbia diritto di avere la verità di quanto è successo in quell'ospedale, perché sicuramente in quell'ospedale, diciamo, non si è reso il servizio migliore che poteva essere dato ad una paziente in quella particolare fase. La paziente è andata in coma perché è in debito d'ossigeno. Questo è quello che emerge dalle cartelle cliniche. E ancora nessuno ci ha detto perché è andata in debito d'ossigeno. La ringrazio. Adesso il deputato Colletti. Prego. Come detto dalla mia collega in precedenza, ci sono molte domande alle quali il sottosegretario non ha evidentemente risposto. In primis il sottosegretario ha risposto con una nota della Prefettura. Ma in questo caso l'ASL ha comunicato qualcosa al Ministero? Oppure non è arrivata nessuna comunicazione? È vero che il Ministero della Salute il 20 gennaio ha richiesto alla ASL delle note? E queste note perché non fanno parte di questa risposta a questa interrogazione da parte del sottosegretario? C'è qualcosa che non può essere detto da parte della ASL? Oltretutto c'è anche da dire che sulla vicenda c'è una indagine penale che in primis il PM ha chiesto archiviazione per il decesso dell'anestesista ma che lo stesso GIP ha rimesso gli atti al PM per l'indagine per verificare le eventuali negligenze ed omissioni non della sola anestesista ma di tutta l'equip ma anche del direttore generale sanitario dell'ospedale del primario del perché nessuno in quell'equip e nessuno in quel reparto ha fatto nulla per evitare che accadesse questo dramma familiare nessuno ha fatto nulla per verificare le reali condizioni psicologiche di questa anestesista e vorrei ricordare che qui non stiamo parlando di una strumentista di un infermiere ma di un anestesista ovvero di una figura medico-professionale importantissima durante un intervento e su questo ovviamente non abbiamo nessuna risposta come non abbiamo risposta sul fatto del perché a quanto sembra dalle notizie che abbiamo avuto dopo l'archiviazione del procedimento disciplinare sia stato preso un tutor per supporto psicologico ma vi sembra normale che un anestesista debba avere durante un'operazione un tutor per un supporto psicologico? Sinceramente a me non sembra normale questa modalità di trattamento sembra più una modalità per archivare il tutto e non far uscire fuori quello che succede dentro quell'ospedale una sorta di omertà uno spirito di colleganza omertoso tra medici e direzione sanitaria perché così almeno i pazienti non sanno le reali condizioni di quell'ospedale e delle persone che operano in quell'ospedale e poi davvero ci lamentiamo se succedono ogni volta casi soprattutto nel sud soprattutto in Calabria di malasanità quando chi dovrebbe in realtà controllare all'interno di un asolo, di un ospedale non controlla magari per tenersi buoni medici ed infermieri e però non possiamo neanche essere d'accordo con questa risposta perché è altamente omissiva questa risposta da parte del governo noi siamo in presenza di un dramma familiare e questa famiglia merita una risposta merita una risposta molto ampia merita trasparenza da parte del ministero da parte della ASL da parte dell'ospedale e della direzione ospedaliera perché non si vuole dare una risposta a questa famiglia? cosa c'è di così indicibile che non si può dare una risposta in quest'aula? io spero che prima o poi il nuovo PM che dovrà indagare anzi che sta indagando su questa vicenda mette in luce la verità storica e processuale però vorrei anche ricordarvi qui mi rivolgo ovvio al sottosegretario ma sarebbe in realtà compenso di giustizia quanto un caso del genere sia soggetto a un termine di prescrizione del reato molto breve e tutto questo tempo provoca il fatto che in realtà non si arriverà in caso mai a una condanna definitiva degli eventuali responsabili e anche di questo me ne dovreste rendere conto di quanto in realtà le deficienze in ambito normativo vanno ad applicarsi sul dato reale sull'impunità di certi comportamenti grazie grazie passiamo all'interrogazione numero 39 69 deputati Iacono ed altri concernente iniziative in accordo con le regioni volte a riformare le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza il sottosegretario De Filippo ha facoltà di rispondere grazie Presidente rispondo sulla base degli elementi che mi sono stati trasmessi dall'ufficio legislativo del Ministero degli Affari Regionali l'onorevole interrogante segnala che nella regione Sicilia sussistono evidenti difficoltà che caratterizzano il sistema delle politiche sociali e i servizi di assistenza delle fasce più deboli della popolazione che si inseriscono nel quadro di una situazione estremamente critica nel comparto dell'assistenza sociale su tutto il territorio nazionale l'onorevole interrogante ritiene che tale situazione necessiti di un'azione concertata tra Stato e regioni e chiede se il Governo intende assumere iniziative volte ad avviare una interlocuzione con le regioni anche attraverso un immediato ricorso alla conferenza Stato-Regione per affrontare Grazie a tutti